L'Italia Malinov, un altro bel 3-0, l'Italia concede il tris a questo europeo. Sì, siamo contenti di aver chiuso anche oggi questa partita in maniera semplice, di non esserci complicate la vita e di averle sempre tenuto sotto e aver espresso un bel gioco. Un primo set ottimo, poi non sono mancati i momenti di difficoltà, ma l'Italia ne è sempre venuta fuori. Sì, penso che ben venga che ci sono stati questi momenti, perché siamo state brave, ci ha dato la possibilità appunto di venirne fuori, di essere un po' sotto pressione, di provare, di uscire fuori da questi momenti difficili e penso che ne siamo usciti alla grande, quindi questo ci rafforza ancora di più. Tre partite, tre vittorie. Cosa deve fare l'Italia per migliorare ancora, se c'è da migliorare qualcosa? Penso che di partita in partita possiamo sempre migliorare, prendere sempre più fiducia, più tranquillità e provare al meglio il nostro gioco, insomma. Domani è un'altra partita difficile a livello mentale, perché bisogna tenere la concentrazione alta sempre, però è un'altra opportunità per provare il nostro gioco, per divertirci e portare a casa il risultato.